Ben trovati alla terza edizione del TG6, apriamo con la cronaca nell'ambito della maxi operazione internazionale di contrasto alla pornografia minorile online coordinata dal servizio centrale della polizia postale in collaborazione con l'FBI che ha portato a 12 arresti in tutta Italia. C'è anche un 49enne della provincia di Teramo. C'è anche un teramano tra le 12 persone arrestate nell'ambito della maxi operazione internazionale di contrasto alla pornografia minorile online denominata Cucciola e coordinata dal servizio centrale della polizia postale di Roma. Si tratta di un 49enne della provincia di Teramo, disoccupato e convivente con l'anziana madre. In casa gli agenti della polizia postale hanno trovato 900 video e 150 immagini di minori tra i 4 e i 12 anni, abusati o comunque oggetto di pornografia. Il fascicolo è destinato ad approdare sul tavolo della DDA di L'Aquila, competente per il reato. L'attività di monitoraggio, supportata da informazioni ottenute dall'FBI tramite l'ambasciata USA in Italia, aveva inizialmente portato a individuare una casella di posta elettronica molto attiva nello scambio di materiale pedopornografico. Il responsabile è stato identificato in un 21enne di Genova, utilizzatore di un account che aveva chiamato Cucciola. Da qui il nome dell'operazione, che ha portato, partendo da Genova, a una serie mirata di perquisizioni nei confronti di 12 cittadini italiani residenti tra le province di Torino, Milano, Como, Brescia, Padova, Verona, Piacenza, Campobasso, Palermo, Cagliari e Teramo. Ennesimo caso di auto che imbocca contro mano l'asse attrezzato. È successo questa mattina a Pescara, all'altezza dell'uscita di Piazza Italia. Francesca Romana Tessi. Tragedia sfiorata sulla strada poco prima delle 10 di questa mattina davanti ai nostri occhi fa ingresso in Piazza Italia a Pescara un'auto contro mano proveniente dall'imbocco dell'asse attrezzato. Una frazione di secondi che poteva trasformarsi in una serie di incidenti se la fortuna non avesse voluto che in quel momento nessun'auto provenisse dalle due direzioni di convergenza né dalla rampa a salire dal lungo fiume né da Piazza Italia. L'auto contro mano si accorge solo all'ultimo dell'errore e tenta la manovra per riprendere la direzione. Procedendo molto lentamente. Accanto a noi solo due passanti che si girano e spaventati osservano la vettura finita contro mano. È solo l'ultimo di una serie di casi di automobilisti che imboccano arterie principali contro mano. L'auto proveniente dalla rotatoria della Capitaneria di Porto probabilmente ha confuso il senso di direzione all'altezza dello spartitraffico che separa il comune di Pescara dal palazzo della provincia, girando a sinistra. Fortunatamente l'errore non ha avuto conseguenze ma i casi aumentano e spesso purtroppo la conclusione è ben più grave. Questa mattina c'è stato un primo incontro in regione tra i primi cittadini dei comuni colpiti dall'alluvione dell'ottobre scorso e la regione Abruzzo. L'obiettivo è di stabilire i soldi, di allargire ai comuni per riparare tutti i danni. Già Marco Menga. Nell'ottobre 2015 un violentissimo alluvione mise in ginocchio la marzica. 14 comuni coinvolti e milioni di euro i danni. I sindaci di Canistro, Civitella Rovetto, Lugo De Marzi e Capistrello hanno avuto questa mattina un incontro in regione per parlare del risarcimento danni da parte dell'ente regionale. A conferire con i primi cittadini il sottosegretario regionale con delega alla protezione civile Mario Mazzocca che snocciola i numeri della questione. I danni quantificati superano le 5 milioni di euro complessivamente. I danni a cui si è fatto fronte ammontano a circa un milione di euro e quindi noi dobbiamo fare le necessità virtù e quindi andare anche a discernere quei danni che sono stati effettivamente causati da quell'evento in quel momento particolare da altri che invece erano già in corso e che magari quell'evento ha soltanto scatenato o amplificato. Nonostante l'impegno della regione e gli oltre 500 mila euro già deliberati i comuni marzicani chiedono a gran voce l'elargizione di nuove somme per sostenere l'emergenza ancora in atto e far fronte ai danni. Il sindaco di Canistro Antonio Di Paolo denuncia il mancato stato di calamità naturale da parte della protezione civile e richiede nuovi fondi. Purtroppo la regione riesce a mettere questa a disposizione adesso al momento. Oggi ci dicono che si cercherà di mettere altre poste in bilancio. Non è stato riconosciuto lo stato di calamità a livello nazionale quindi questa è la situazione attuale. I danni sono ingenti perché solo... Nel suo comune quanto servirebbe? Solo io per le spese di primo intervento sto intorno ai 400 mila euro documentati quindi non parliamo chissà di chissà cosa. I danni si parla di oltre 2-3 milioni di euro. Hanno interrotto lo sciopero della fame dopo 11 giorni gli ex interinali di Attiva. Problemi di salute che però non hanno bloccato la protesta che annunciano. Proseguirà a Roma sotto al palazzo del Ministero. Ascoltiamo. Dopo 93 giorni di presidio davanti al comune c'è stato uno sciopero della fame che è stato interrotto dopo 11 giorni per i malori di alcuni degli ex interinali di Attiva. A tutto questo poi che cosa è seguito da parte delle istituzioni? Dunque lo sciopero della fame sì è stato interrotto inizialmente per problemi di salute perché chiaramente non possiamo ammalarci per colpa di signori che già ci hanno messo in mezzo alla strada quindi è anche doveroso e rispettoso nei confronti delle nostre famiglie. Più che altro saremmo arrivati a un punto che non avremmo avuto più le forze per portare avanti la protesta. Quindi la protesta va avanti, si evolverà in nuove situazioni, stiamo progettando di andare a Roma sotto il Ministero. Stamattina c'è stato un incontro con il Presidente della Regione D'Alfonso. Che cosa vi ha detto? Le solite cose che si sta prodigando per risolvere anche in maniere alternative alla strada Colaci. Insomma le solite promesse. Cosa vi hanno offerto fino adesso? Una vera soluzione conciliativa non c'è stata perché c'è stato solamente proposto di fare dei tirocini per prendere una qualifica che eventualmente potrebbe servire per un eventuale futuro concorso. Quindi si viaggia sempre nel campo delle ipotesi quindi soluzioni praticamente non ce ne sono. Oggi è previsto un incontro tra l'amministrazione comunale e i vertici di Attiva. Voi siete stati chiamati? No, noi veniamo informati da voi adesso. Noi probabilmente non siamo chiamati parte in causa, non c'entriamo. Quindi se la vedessero loro noi aspettiamo qua giù. Dipende dal governo italiano la decisione finale da parte di Ryanair se chiudere o meno le basi di Alghero, Crotone e Pescara. Lo ha detto il boss della compagnia aerea low cost Michael O'Leary in un incontro con la stampa Dublino in cui ha auspicato che entro giugno il ministro dei trasporti Graziano Del Rio presenti un piano di garanzie per il vettore irlandese a partire dalla riduzione delle tasse addizionali aeroportuali. Questo spingerebbe Ryanair a rivedere i suoi piani di chiusura. E l'associazione Archeoclub d'Italia prosegue la sua battaglia a tutela della maiella. Il caso è quello delle cave di rapino che nel 1987 portarono in luce una necropoli. Da lì in poi i tre esposti alla magistratura a diverse azioni di denuncia pubblica ma ad oggi ancora nessuna azione da parte delle istituzioni. Il servizio. La storia inizia nel 1987 con la scoperta di una necropoli in località Santa Spontanea nel comune di Rapino. Da lì in poi si apre una battaglia di tutela del territorio contro le cave. Il primo esposto alla magistratura arriva nel 1988 ed era proprio l'Archeoclub a produrlo. Nel 1991 veniva messa in luce una grotta preistorica detta degli Orsi Volanti sottoposta in seguito a vincolo archeologico. Nel 1999 arriva il secondo esposto alla Procura della Repubblica di Chieti. Nello stesso anno arriva anche il sequestro di una cava grazie all'intervento del comandante del Corpo Forestale dello Stato di Guardia Grele. Nell'agosto del 2006 arriva il terzo esposto alla magistratura da parte dell'Archeoclub e da lì in poi una serie di richieste di intervento che ad oggi non hanno prodotto il risultato tanto sperato la salvaguardia del sito. La cosa gravissima è che in tutti questi anni l'ufficio cave della regione è stato latitante perlomeno latitante. C'è un episodio gravissimo segnalato da un comandante di stazione del Corpo Forestale dello Stato che dopo aver sequestrato la cava una cava che aveva violato tutte le norme era stato rimproverato dai funzionari della regione Abruzzo. Io ho parlato con il nuovo sottosegretario Mazzocca il quale è favorevole a fare una riunione da noi richiesta di intervento e una riunione per studiare come progettare difficilissimo progetto da realizzare per recupero ambientale di queste cave. Speriamo bene. Cambiamo argomento, oggi terza giornata di fiera a Verona per il Vinitali 2016 questa mattina nell'area istituzionale della regione Abruzzo è stata presentata la quarta edizione del premio giornalistico denominato Wars of Wine. Vediamo. È stato presentato nell'area istituzionale della regione Abruzzo la quarta edizione del premio giornalistico World of Wine 2016 Parole di Vino l'iniziativa è stata promossa dal Consorzio di tutela dei vini con la collaborazione del Centro Estero delle Camere di Commercio e l'Assessorato Regionale all'Agricoltura per promuovere l'immagine dell'Abruzzo Enoico il premio è aperto a tutti coloro che svolgono attività giornalistica in ambito nazionale ed internazionale in questa edizione sono stati coinvolti anche gli studenti degli istituti alberghieri della regione che rappresentano il più importante anello di congiunzione tra il mondo produttivo e quello della ristorazione di qualità le sezioni sono tre, carta stampata, televisione radio e stampa online il bando sarà pubblicato a breve sul sito internet il Consorzio di tutela dei vini mentre la cerimonia di premiazione si terrà a Pescara nel mese di ottobre tra gli ospiti, presente alla presentazione di oggi i vincitori della passata edizione, tinto e fede del programma radiofonico De Canter in onda su Radio 2 Rai Cine Cacine, Cacine in tutte non si dice, no? È abruzzese vedi che qualcosa di abruzzese la so dire, no? No, siamo molto legati a questa terra perché non solo è vicina a Roma ma dal punto di vista enogastronomico è una terra che spinge spinge veramente tanto a grandi potenzialità perché noi ci vediamo della genuinità anzi, non ne parliamo troppo perché poi noi, conducendo De Canter su Radio 2 se troppe persone scoprono l'Abruzzo poi l'Abruzzo non è più incontaminato ovviamente è una battuta vi invitiamo a visitarlo ad assaggiare le proprie eccellenze enogastronomiche perché attraverso i suoi prodotti si può scoprire una terra unica ma unica anche per le persone d'Abruzzo la gente d'Abruzzo è veramente differente c'è un'amicizia, un'amicizia profonda Tonino Verna, ma non solo Gregorio Gregorio che sta a Scanno c'è un posto dimenticato da Dio dove non ci sono i telefonini ma direi grazie a Dio Viva l'Abruzzo Tinto De Canter Radio 2 Un libro per raccontare in poesia tutte le emozioni della vita Maria Di Federico ha presentato il volume Al di là dell'orizzonte Alfredo Primante Si intitola Al di là dell'orizzonte la raccolta di poesie di Emilia Maria Di Federico scelta dal critico d'arte Massimo Pasqualone per far parte della collana dell'Istituto per lo studio il recupero e la valorizzazione del dialetto abruzzese e delle lingue minoritarie in Italia di destinazione arte otto volumi che spaziano dalla poesia alla saggistica ponendo particolare attenzione ai poeti abruzzesi per la presentazione del libro nato dalle emozioni quotidiane che raccontano brevi ma intensi momenti di vita vissuta Maria Di Federico ha scelto le radici della sua infanzia il castello di Semivicoli a Casa Canditella luogo d'origine dei suoi genitori da dove sei? non sento i tuoi sussurri a carezzare il mio cuore questa sera? mi stai forse abbandonando? o sono io che abbandono te? no che questo non succeda mai quanti bei momenti abbiamo trascorso assieme alla luce della fiamma del focolare ispiratore tu regina della mia solitudine hai regalato alla penna dell'animo parole indelebili possa la nostra unione navigare oltre il tempo al di là dell'orizzonte ove cuori assetati d'amore ne attendono il delicato sapore il comune di Roseto degli Abruzzi e il centro anziani hanno organizzato una mostra di prodotti artigianali realizzati dai soci del centro il ricavato sarà devoluto in beneficenza nei prossimi giorni 15, 16 e 17 a Roseto si terrà appunto una mostra di pittura preparata dal centro anziani realizzando un progetto proprio di pittura c'è un insegnante che negli ultimi mesi ha lavorato con i partecipanti a questo progetto e queste opere verranno esposte presso la villa comunale il ricavato sarà destinato alla beneficenza o comunque all'aiuto delle famiglie bisognose il centro anziani di Roseto si sta sviluppando il fiore all'occhiello di questo territorio perché ha una presenza quotidiana di 150-200 persone al giorno in chi fa pittura chi fa corsi di tablet chi fa corsi di computer chi gioca la domenica sera si balla e non solo sta facendo adesso questo ma ha nelle prospettive di ospitare anche degli anziani turistici che vengono nella nostra zona la CNA di Teramo e l'associazione Mondo Vivo hanno presentato la manifestazione denominata Interamia Cioco Festival dedicata al mondo del cioccolato che si svolgerà il 15, 16 e 17 aprile in Piazza Martiri della Libertà a Teramo noi vogliamo fare un'iniziativa per valorizzare il lavoro dei nostri artigiani di produzione italiana della produzione locale valorizzando gli artigiani della provincia di Teramo e non solo perché verranno anche altri artigiani di altre province e faremo tre giorni di Kermesse di assaggio del cioccolato coinvolgendo anche le scuole e sperando di siccome il cioccolato porta un po' di buon umore di mettere un po' di buon umore a tutta la città e anche a chi verrà lì ad assaggiare Primo Interamia Cioco Festival abbiamo voluto con la CNA si svolge in Piazza Martiri tutti i venerdì, sabato e domenica prossimi dalle 10 alle 22 è una collaborazione con la CNA come abbiamo con tutte le altre associazioni di categoria che abbiamo voluto in un tavolo permanente nel quale abbiamo redatto un calendario nel quale le associazioni hanno occupato diciamo così delle giornate durante l'anno la CNA ha voluto queste giornate per fare questa manifestazione e spero che ce ne chiederanno altre perché con la CNA c'è una collaborazione fattiva ed ora passiamo alla pagina sportiva prosegue la preparazione del Pescara in vista dello scontro diretto di venerdì sera con il Cesena ancora a parte la Padula M. Musciai le cui presenze non sono in dubbio migliorano sensibilmente Zampano e Zuparic Fiorillo tornerà tra i pali al posto dell'acciaccato a resti da monitorare le condizioni non ottimali di Caprari anche se prima dell'allenamento odierno l'attaccante si è mostrato fiducioso circa la sua presenza in campo ascoltiamolo le interviste di Andrea Costantini Caprari intanto le tue condizioni no no sto bene ho solo un po' di fastidio al ginocchio che però mi porto da tempo dietro quindi è solo un momento ci sarai venerdì sì sicuramente senti tornando alla partita di Avellino un gol potevano essere due però insomma è una testimonianza del fatto che il momento peggiore è passato sì sì ma eravamo solo accorto i risultati ecco perché le prestazioni ci sono sempre state forse tranne a Vercelli però il resto ci mancava solo il risultato ecco io credo che in questi anni mi è sempre mancata la continuità che per un giocatore penso sia fondamentale ecco ho avuto due infortuni poi ho giocato poco ogni tanto giocavo e non giocavo quindi io penso che quest'anno sta avendo quella continuità che mi è mancata comunque insomma la Padula Caprari è la coppia più prolifica di Granlunga del campionato ci pensi ogni tanto a questi numeri no gli ho letti sicuramente fa piacere sia a me che a lui ecco dobbiamo continuare così perché mancano ancora tante partite più i playoff quindi per adesso non abbiamo fatto ancora nulla più i playoff quindi vuol dire che sei certo insomma che il Pescara possa fare i playoff ma io ci credo ecco abbiamo dimostrato anzi siamo in una posizione dove non meritiamo credo quindi io credo di arrivarci c'è già venerdì che penso che sia fondamentale ecco perché siamo pari punti è una partita che vale doppio ma io penso a finire bene la stagione poi se ne riparlerà a giugno quando sarà però tu pensi al fatto che questi possono essere gli ultimi due mesi in maglia bianca azzurra perché le richieste sono tante e se il Pescara non sale difficilmente resterai ma non so pure l'altro anno dicevo che magari era l'ultimo anno invece non è stato così adesso ho detto penso a queste ultime partite a fare bene con questa maglia perché dopo cinque anni era arrivato il momento ecco e poi vediamo allenamento al mattino al Memo per la Virtus Lanciano lavoro tattico in vista della gara di sabato contro il Latina non si è allenato il difensore Rigione dalla risonanza magnetica si vince una fascite plantare ma lo staff sanitario monitorerà quotidianamente le sue condizioni per verificare il miglioramento della sua situazione domani allenamento al pomeriggio alla Biondi e sempre da domani alle ore 15 saranno in vendita presso il bar Micolucci Tagliandi per la gara latina Virtus Lanciano 400 i biglietti a disposizione per il settore ospiti la vendita si chiuderà venerdì alle ore 19 scendiamo in Lega Pro ha diretto oggi il primo allenamento il neo allenatore dell'Aquila Giacomo Modica che è sempre al ritiro di Amatrice è stato presentato alla stampa alla presenza dei massimi dirigenti della società vediamo il servizio voglio la massima disponibilità dei calciatori posso garantire che suderanno la maglia in ognuna di queste quattro finali poche parole ma incisive quelle del nuovo allenatore dell'Aquila Giacomo Modica presentato ad Amatrice questo pomeriggio dove la squadra è in ritiro per preparare la prima delle ultime quattro gare della stagione in programma domenica al Fattori contro il Siena Modica ha subito lavorato sul campo di Amatrice con la sua nuova squadra ma la domanda delle ultime ore è come giocherà la sua L'Aquila storico collaboratore della Bohemo Zeman il marchio di fabbrica è il 4-3-3 ma sul modulo tattico da utilizzare per questa avventura il neotecnico Rosso Blu spiega io penso che ci siano le condizioni per poterlo fare ma poiché non voglio stravolgere a grandi linee quello che è stato il loro percorso fino adesso ho bisogno anche di parlare un po' con loro parlare un po' con loro e capire se la disponibilità è totale eventualmente da avere la possibilità di fare quello che io ho in testa perché ribadisco non c'è allenatore al mondo bravo se non ha disponibilità da parte dei giocatori ce ne è bravi di talento bravi che probabilmente in questo momento hanno bisogno di una scossa un qualcosa di diverso perché di Domenico è un giocatore importante Perna è un giocatore importante Ceccarella è stato un giocatore importante bisogna ripristinare un po' bisogna ripristinare un po' quello che è il sapere cosa passa per la testa adesso a questo ragazzo ma io conto di recuperarlo spero nella sua volontà Soso è un giocatore importante non me ne vogliano gli altri ce n'è i giocatori bravi che possono dire la loro in questa campionata e quindi siccome non si gioca a livello individuale ma si gioca a livello di gruppo mi aspetto che il gruppo mi venga dietro e ognuno faccia la propria parte chi ha 6 dà 6 il 6 lo porteremo a 6 e mezzo una cosa è certa suderemo la maglia quello è sicuro poi non so dove arriveremo ma la maglietta la suderemo e il giudice sportivo ha squalificato per due giornate il difensore Celiento del Siena che dunque salterà la partita del Fattori non ci sono provvedimenti nei confronti di calciatori di L'Aquila Teramo e Lucchese definite intanto le disegnazioni arbitrali L'Aquila Siena sarà diretta da Zanonato di Vicenza Teramo Lucchese da May di Pesaro Teramo che ha iniziato a preparare il penultimo match stagionale casalingo contro la Lucchese ascoltiamo il giovane centrocampista Palma autore del gol del 3 a 3 a Siena esatto proprio la parola giusta finalmente dopo tanto tempo finalmente ho avuto l'opportunità di scendere in campo e poi è venuto anche il gol quindi è stata una gioia doppia per me penso che sia ingiudicabile perché ho fatto solo due questa è la seconda partita quindi non posso dare un giudizio ovviamente è stata negativa però dal mio punto di vista non posso recriminarmi nulla perché non ho avuto modo di esprimere questo possiamo farmi un altro spregamento come mai se vuoi dire cosa è no è una scelta tecnica quindi cioè io non posso dire nulla quindi sono scelte del mister è impossibile che un giocatore che non giochi mai possa essere contento però ho imparato anche a non giocare mai quindi è una lezione che mi servirà per il futuro e mi ha temprato il carattere quindi prendo quello di positivo che c'è stato e vado avanti un San Nicolò sciupone si fa superare il rimonta a domicilio dalla Re Canatese per 1 a 2 spuma il sorpasso al quinto posto e a questo punto i playoff diventano una chimera per la squadra del tecnico Massimo Epifani il servizio di Jacopo Forcella davvero una beffa difficile definire diversamente il posticipo di Serie D una beffa per il San Nicolò che per occasioni create e sciupate avrebbe e come da recriminare e invece non arriva nemmeno un pareggio perché la Re Canatese all'ultimo assalto trova con Falco il gol che condanna i biancazzurri di Epifani a dire addio quasi certamente alle possibilità di playoff il primo a farsi vedere dalle parti di calore in apertura di primo tempo è Angelilli con un destro da posizione defilata che al quinto chiama la risposta non complicata l'estremo difensore di casa brivide un minuto più tardi per i padroni di casa perché il corner di Cianni trova sul secondo palo Patrizzi che di piatto manda il pallone fuori di un soffio la risposta di casa di Merlonghi con un piazzato che quasi sorprende Verdicchio che si salva in due tempi ma è solo l'antipasto al gol del San Nicolo che arriva al quarto d'ora Patrizzi chiude male su De Giglio che trova con caparbietà lo spazio per servire Bucchi su cui c'è la prima chiusura della difesa leopardiana che nulla può futta pinne vincente dell'ex campo basso per Bucchi il quinto centro in maglia biancazzurra la reazione dei giallorossi ospiti al ventottesimo con la punizione potente tema centrale di Falco poco prima del triangolo stretto tra Bucchi e Merlonghi con la conclusione finale di quest'ultimo che prende il giro giusto ma termina di poco alta sopra la traversa brivido per la squadra di Bifani a pochi secondi dal riposo Angelilli crossa dalla sinistra trovando la testa di Miani che schiaccia da buona posizione ma è attento calore a tenere la palla insidiosa tra i guanti dopo 30 secondi dalla ripresa è Merlonghi a sfiorare il goderra doppio con un piatto che va vicino al palo alla sinistra di Verdicchio il San Nicolo gioca bene e al tredicesimo va due volte vicino al gol prima con un'azione personale di Massetti che fa tutto bene anche il cross per Bucchi che di testa trova la risposta di Verdicchio che vede sfilare fuori di poco la staffilata da fuori area di De Santis la beffa però per i palloni di casa dietro l'angolo e si materializza al quattordicesimo quando l'attraversone di Xiongò trova Miani tutto solo in area libero di girare i testa alle spalle di Calore il pallone della parità Epifani allora inserisce Mozzoni e Donatangelo per Massetti e De Santis anche se briga ritrovarsi sul destro un buon pallone calciato però male altra occasione sciupata al 73esimo con la discesa proprio di Mozzoni sulla corsia Mancina che trova il tempo e lo spazio per servire Bucchi che calcia clamorosamente a lato ancora più clamoroso è il diagonale di Merlonghi che da pochi passi non trova lo specchio della porta di Verdicchio anche l'area canatesi avrebbe però la palla per vincere la gara Patrizia arriva in spaccata sul piazzato di Angelilli ma manda incredibilmente a lato schemi che saltano nel finale con Terrenzio che si immola sul Miani e con la difesa di casa che si salva in qualche modo Leopardiani che conquistano però l'intera posta in paglio proprio all'ultimo assalto con Falco che raccoglie un invito di un compagno di squadra sugli sviluppi di un corner e gira alle spalle di calore il pallone che forse vale per i giallorossi la qualificazione ai playoff a scapito proprio dei Biancazzori di casa questo è il calcio purtroppo la cosa che mi rammarica di più è vedere i ragazzi in uno spolatoio che piangevano perché hanno dato tutto hanno fatto una grande partita credo che oggi che stasera chi meritava di vincere ampiamente San Nicolò ma con un risultato molto rotondo perché abbiamo creato abbiamo giocato e loro si sono pensati specialmente a seconda ma hanno pensato solo a difendersi e ripartire e siamo stati siamo stati forse in genere sul primo gol ma poi credo che alla fine quel gol in mischia grida ventetta però credo che la squadra va dato tutto sono orgoglioso di allenare questi ragazzi perché hanno fatto veramente una grande partita e mi dispiace per loro però mancano quattro partite ce la giocheremo fino alla fine perché 12 punti sono in valio e cercheremo di lottare fino all'ultimo minuto dell'ultima partita io devo ringraziare questi ragazzi perché veramente stanno facendo grandi cose si stanno applicando devo ringraziare tutti perché quando si ottengono questi risultati non dipende da una sola persona ma da tante componenti quindi andiamo avanti e vediamo dove possiamo arrivare E' tutto per oggi grazie per l'attenzione e buonanotte Grazie a tutti